A meno di 48 ore dall'avvio del campionato di promozione, il Città di Mascaluccia è stato presentato ufficialmente in una brillante location che esalta le realtà economiche del territorio. Il battesimo per il nuovo anno si è tenuto nei locali del nuovo main sponsor H-Clinic Poliambulatorio Medico operante nella cittadina etnea presieduto da Giuseppe Giuffrida entusiasta per il sostegno alla prestigiosa realtà calcistica locale dei presidenti Gianni Spina e Antonio Cesarotti. Condotto dal noto presentatore Ruggero Sardo, l'evento si è aperto con la proiezione di un video realizzato da Sicilia Drone di Antonio Sanzo in cui hanno fatto da testimonial atleti e tecnici sia della prima squadra sia dell'attività di base negli scenari dello spiazzo antistante al municipio di Mascaluccia e nei campi ICOS di tre mestieri. Struttura aggiuntasi da un anno per l'attività di scuola calcio al quartiere generale Sport Innovation. A portare i saluti delle autorità istituzionali il vice sindaco Fabio Cantarella. Momento di cabaret in conclusione a cura di David Simone Vinci. Ampia la partecipazione dei numerosi componenti di squadra, staff tecnico e società. La visita ad H-Clinic è un modo per augurarsi buon campionato ai nastri di partenza domenica 10 settembre. L'undici di Giovanni Garofalo che da pochi giorni potrà contare anche sull'attaccante della 99 Giulio Costanzo di rientro dopo una breve parentesi alla San Pio X si recherà in trasferta ad ACI Sant'Antonio Fischio d'inizio alle ore 15.30.